No, 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 i lama che mi fanno fuori lo scheletro, no, mi rifiuto, eh, mi rifiuto ragazzi, sarebbe la cosa più imbarazzante del mondo. Ciao lacustri, benvenuti e bentornati, oggi episodio veramente folle, per chi si fosse perso lo scorso siamo morti ben due volte cercando di salvare l'ostrei, che è lo scheletro delle nevi. E non è uno scheletro delle nevi normale, ma è quello con la testa di zucca che abbiamo preso in onore di Allo, in uno dei mob più rari di sempre. Perché? Perché spawna soltanto quel giorno e lo volevo intrappolare dentro al mio museo. Nell'episodio di oggi lo andiamo a salvare, poi andiamo un po' in miniere, siamo stati fortunatissimi come sempre, d'altronde il re dei diamanti è qui, e vi insegno anche come prendere i diamanti nel miglior modo possibile, quindi prendete appunti. E poi ho fatto anche una costruzione alla fine, meglio di così. Ragazzi, mi raccomando, godetevi l'episodio, io vi ricordo di lasciare like al video e iscrivervi prima di iniziarlo, e vi auguro una buona visione. Let's go! Ragazzuoli, Halloween è finito, è la domanda che mi state chiedendo di più in assoluto ovunque, nei direct, sotto i video di YouTube, sotto i TikTok, in live. Nella chat della live, quando non sono in live, io ero offline, è arrivato un ragazzo e mi fa, lollo, sei riuscito a catturare tutti i mob? Bene, ora vi do la risposta definitiva a questa cosa, e vi faccio vedere. Allora, innanzitutto questo qui è il nostro bellissimo scheletrino, dove abbiamo costruito il museo. Partiamo dalle cose semplici, ragazzi. Abbiamo gli zombie, e abbiamo lo zombie con la jack o' lantern, e lo zombie con la zucca normale. Entrambi hanno sia la name tag, quindi hanno un nome, adesso non me lo ricordo, ma gli avevamo dato dei nomi particolari, che un oggetto in mano. Quindi comunque danno quel valore aggiunto, che poi sia carne e marcia, questo è un altro discorso. Poi abbiamo due scheletri, che al momento sono dentro ad una barca, perché non ho trovato altre name tag. Abbiamo i due ask, che siamo andati nel deserto a prendere, siamo andati a prendere anche i bush. Mamma mia, ragazzi, quella live è stata folle, soprattutto per come è finita. Quella gabbietta lì ve la faccio vedere tra un attimo, perché c'è una storia particolare per quella gabbietta. Qui abbiamo il wither, e ahimè, ragazzi, il wither con la testa jack o' lantern, non sono riuscito a trovarlo. Sono stato tantissimo tempo, tanto che addirittura ho trovato una testa di scheletro, wither skeleton, non c'era. E quindi non sono riuscito ad intrappolarlo. Poi abbiamo i due pigmen, questi sono stati molto semplici in realtà. Poi abbiamo i due drowned, e come vi dicevo ne abbiamo uno con il nautilus shell e la testa rizzucca. Questo era un drowned, mentre invece questo qui era uno zombie, che se fai affogare appunto ti dà questo effetto qui. Però abbiamo un mob molto particolare, per tante cose. Questo si chiama stray. Lo stray è tipo un fantasma, e per diventare un fantasma o lo trovi in natura, tipo nei biomi innevati che stanno a centinaia di migliaia di blocchi da casa mia, oppure fai andare uno scheletro dentro la powder snow, che sarebbe tipo la neve battuta. E questo esserino maledetto mi ha fatto fuori mentre stavo tornando a casa dopo aver intrappolato loro due nel deserto. E ho trovato questo qui normale, ma ho trovato anche la sua variante con la testa rizzucca a lanterna. Mentre lo intrappolavo ragazzi, mi ha fatto fuori, ok, e si è rubato la mia armatura. Abbiamo una piccolissimissimissimissimissima possibilità di salvare l'ultimo stray in modo da completare questo bioma. Almeno questo, perché purtroppo non siamo riusciti a prendere l'ultimo wither, quindi già uno è incompleto. Almeno completiamo questo qui. E poi c'è un'altra cosa che non sono riuscito a trovare neanche uno ragazzi. Sono stato alla farm tanto di quel tempo, mamma mia. Ho fatto spawnare mob in giro. Ragazzi, è insane questa cosa. Lo zombie villager. No, i creeper non hanno la testa rizzucca, fortunatamente. Anche perché intrappolare un creeper, buona fortuna. Poi ti passava qua, ti esplodeva, ti faceva uscire gli altri, si picchiava una vicenda. Una cosa che poi dobbiamo fare dopo aver provato a salvare il bro, è mettere le name tag a tutti. Il problema sarà poi trovare le name tag. Probabilmente le pescherò o faremo qualcosa di simile comunque. Adesso vi porto, ragazzi, me le sono scritte sul librettino le coordinate. Alle coordinate 20-500. Perché alle coordinate 20-500, ragazzi. Si trova il nostro stray e lo dobbiamo far venire nel nostro villaggio. Lo dobbiamo portare. Tecnicamente non brucia, perché ha in testa una zucca, ma in generale lo stray non dovrebbe bruciare. Sarà una bella avventura. E io andrei sinceramente quando il sole è appena sorto. Quindi vado a dormire, mi porto dietro il letto. E appena mi sono svegliato che non ci sono più mob, li facciamo fare tutto il trapasso per arrivare qua. L'altra volta, quando siamo passati a miglior vita, io sono andato ben oltre, ragazzi. Perché quando stavo andando a riprendermi le cose, ho trovato le mie vecchie cose. Perché siamo morti due volte per colpa dello stray e degli scheletri. Quei mob li devono togliere dal gioco. Ve lo giuro, li devono togliere. Allora, perfetto. Siamo arrivati allo spot. Non è troppo lontano da casa, fortunatamente. Dormiamo. Così non spawnano nemmeno i mob. Lo vedete il signor Roger? Vedete che cosa ha al posto dei pantaloni, il bro? I miei pantaloni, ok? Io mi sono dovuto rifare i pantaloni. Perché è l'unico modo che ho per riprenderli. E quindi per non farlo fuori e per salvarlo, ragazzi, gli ho dovuto lasciare la mia armatura. E me la sono dovuta rifare. Adesso devo trovare un modo per portare questo simpaticissimo signore. Ma non è la Jack o'Lantern? Forse quello a casa è la Jack o'Lantern. No, 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 no. I lama che mi fanno fuori lo scheletro, no, mi rifiuto, eh. Mi rifiuto, ragazzi, sarebbe la cosa più imbarazzante del mondo. Yo-ho! Ti ho visto che non hai lasciato like al video, mi raccomando. Ricordati di bere almeno due litri d'acqua al giorno, che è importante per la tua salute. Tu, che hai scatenato tutto questo, via. Maledetto. Nah, this is crazy. Non devi fare cavolate, Roger. No, è vero. No, 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 non andare sulla neve, non andare sulla neve. Vieni di qua, Roger. Vieni di qua. Per l'occasione mi sono pure preso le carote d'oro che mi rigenerano più velocemente la vita, perché questo qui fa un male, ragazzi, che non avete idea. Perché ci sono ancora mob con la zucca? In realtà, bro, questo l'ho preso ad Halloween. Semplicemente non sono ancora riuscito a portarlo a casa ed è l'ultimo che mi manca. Allora, vediamo le coordinate al volo. Sì, dovrebbe essere il posto giusto. Per me mi conviene semplicemente camminare con calma e farmi sparare, che è brutto da dire, ma è la soluzione migliore. Dai, ragazzi, che ce l'abbiamo! È là il posto dove lo dobbiamo portare. Ormai è in saccoccia. Ok, meglio che sto zitto prima che faccia una brutta fine. Ragazzi, è lì il museo. Ce l'abbiamo praticamente fatta. Però c'è una cosa a cui devo stare molto, molto attento. Ce n'è un altro dentro ad una barca. Se lui gli spara, è finita. Ne abbiamo perso uno dei due garantito. Devo stare molto attento. Gli ultimi step, ragazzi. Gli step più importanti. Madonna Roger, la voglia di tirarti una spadata è fortissima. Ah, poi, piccola side note. Ho fatto l'upgrade alla spada di diamante e l'abbiamo resa in nederite. E come vedete ho chiamato I... Manca la L dell'armatura, ma è I love you, col cuoricino, dedicato a voi. Così ogni volta che mi chiedete dell'armatura, vedrete la scritta I love you. Mi fa il wall peeking, questo qua. Pensare di essere su Call of Duty. No, bro, dove fai? Ma è pazzo. Fratello, cosa ci vuole venire giù? Ma è troppo intelligente. Impossibile farlo scendere. Ah, ok, niente. Scherzavo. Vieni dentro, Roger. Vieni, vieni, vieni. Oh, è troppo intelligente, ragazzi, ma... Oh! Ok, 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 ok. Wee, 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 questo era un gran rischio, eh. Ho un'idea. Facciamo così che almeno non mi possano colpire. Metto un blocco solido qua sopra. Volo sotto. Lo abbiamo salvato. L'altro aveva la Jack o'Lantern, io non lo vedo, ve lo giuro. No, sono due con la testa normale. Cavolo, pensavo avesse la Jack o'Lantern. Eh, vabbè. Se la vi. Bene, 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 bene. Ora, come ho detto prima, ci facciamo una bellissima sessione miniera. E vedete questa canna da pesca? Sarà fondamentale. Perché cosa? Non lo so. Chiama l'hack, fortuna, ustre. Allora, allora, allora. Per chi ancora non lo sapesse, io ho un bellissimo metodo per trovare i diamanti, che è il metodo Lollo Lacustre. Lo chiamo Metodo Lollo Lacustre perché l'abbiamo praticamente riportato in vita. E io lo faccio in un modo molto particolare. Molte persone vanno qui e mettono una Traptor, cosa che si può fare su Java. Su Bedrock no, devi mettere l'acqua. Con l'elitra equipaggiata, fondamentale. E faccio track. Qual è la peculiarità di questa cosa, però? Che se io sono in miniera e ho l'incantesimo passo felpato 3, cosa ho sbagliato l'ho incantata con passo felpato 2. Non ci credo. Ci credo. Si può essere così stupidi da non distinguere un 3 da un 2. Fate finta che io abbia passo felpato 3, adesso lo andiamo a mettere, non vi preoccupate. Questo incantesimo ti fa andare più veloce. Guardate che in realtà fa così tanta differenza passo felpato 3, mi sa di no. No, non ha neanche senso andarlo a mettere. E quando si mette passo felpato ti muovi molto più velocemente dentro questi buchi. Sì, ok. Andiamo a mettere passo felpato 3 perché per tornare indietro è abbastanza lenta come cosa. E oltre a questo ovviamente quando sei in shift ti muovi molto più velocemente, vedete? Non sto camminando, sono shiftato. Avete visto quello che ho visto anche io? Si può vedere attraverso... Yoho! Allora, io mi do 10 blocchi dopo aver detto angure rotolante e sono sicuro che troviamo i diamanti. Non l'ho ancora detto però angure rotolante. Dopo che lo diciamo. Diciamolo adesso. Angure rotolante. Però devo... Swift Sneak è così veloce che riesco ad andare oltre la lava. Ok, non c'erano dei diamanti ma c'è comunque del ferro. Sta cucinando, sta cucinando. Eccoli ragazzi. Abbiamo rotto la maledizione. I primi diamantozzi. Primi di tanti. 4 da una picconata? Non era 3 il massimo che te ne poteva dare. 8 diamanti da 2 picconate? 9. Ci sta. 10. 14. Ok. Vedo molto bilanciato. Passa da 1 a 4. Ok. Ragazzi dobbiamo implementare la canna da pesca come porta fortuna. So io che cosa fare. Allora, qua richiudiamo. Portiamo avanti i nostri diamantozzi. Allora, è anche più efficiente di quello che pensassi. Stavo per dire tra poco troviamo i diamanti. Non ho neanche fatto tempo a finire la frase che gli ho trovati. E non ho fatto neanche la gag dove volevo provare a pescarli così. That's crazy. C'è un trucchettino ragazzi. Per chi gioca da Java, mentre scavi, se schiacci F3 più T, ti fa la schermata di Minecraft. E tengo sulla mano per farvi vedere. Scava automaticamente per voi. E, 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 aspetta però. Aiuto, non riesco a fermarlo raga. Come si fa a fermare questa cosa? Aiuto. Aspetta, ci sono dei diamanti. Aspetta. Ok, me l'ha fermato. Bastava premere Ask. Abbiamo trovato dei diamanti. Ah, 20 diamantozzi. Sapevo che ce n'erano altri. Fermati. Ce n'erano dei diamanti. Torna indietro, ok. Ah, eccoli qua. Grazie ragazzi, scusate. Ma li avevo anche belli che pass... Cioè, trapassati, altro che passati. Sono diventati un trapassato remoto questi diamanti. Comunque, la costruzione, che vi dicevo prima, che avevo in mente, non era nulla di troppo stravagante. Semplicemente, come sapete, voglio rifare la mia casa. Però mi sono detto, io sotto la casa ho la miniera. Come faccio a gestire questa cosa? Perché non fare l'ingresso della miniera? E di fianco la casa. Quindi, praticamente, vado ad utilizzare tutto lo spazio anche in modo abbastanza intelligente. Ok, questi qui sono i blocchi che utilizzerò per fare la cosa della miniera. E la voglio fare al momento qua. Molto chill. Allora, iniziamo facendo una base 5x5. Sembra più che onesta. Qui potrei utilizzare delle scale per sopraelevare la costruzione. Non ne ho molte a disposizione, ma magari possono anche fare il loro lavoro, diciamo. Esattamente così. Questo è l'effetto preciso che volevo ottenere. Questo l'alziamo di un altro blocchettino, senza farci problemi di nessun tipo. No, ma non è una rappresentazione. Voglio fare una statua che tiene un piccone. Sembra una cosa carina da fare, per ricordare la nostra miniera. Ok, perfetto. L'inizio lo abbiamo. Ora mi servono spruce, legno di spruce, gli oak planks. Legno di spruce non questo, ma proprio l'albero stesso. Con questi qui poi li trasformiamo in questi, ma del colore dell'oak. E poi voglio utilizzare sempre l'ultimo blocchettino che abbiamo scoperto, molto bello. Ovvero il, se non sbaglio eh, polished deep slate bricks. Ah no, solo deep slate bricks. Ok, era più semplice dal previsto. Che anziché utilizzare il blocco normale, potrei utilizzare il blocco quello così. Esatto. E lo stesso farlo con gli oak, anziché utilizzare gli oak planks. Semplicemente prendere gli spruce e fare così. Per chi ha capito la statua che ho in mente. Allora, vediamo se ha senso questa combo di colori. Perché mi fido di voi, assolutamente ragazzi. Però, vederla con i miei occhi è tutta altra cosa. Ma in realtà, cucina eh? Molto easy ragazzi. Build proprio basic, basic, basic del piccone. Vediamo se la forma sta uscendo. Aspetta, sono stupidissimo ragazzi. Ce l'avevo in testa e l'ho fatto al contrario praticamente di come lo dovevo fare. Sono anche un po' stanco, ma questo è un altro discorsino. Aha, ora sta iniziando ad uscire. Sto cercando di capire se farlo di uno più lungo o meno, quella cosa lì. Andiamo sull'alberozzo, facciamo così. Qui ci mettiamo questo, poi ci mettiamo questo qua così. E poi dovrebbe andare, se non sbaglio, verso il basso di cinque blocchi. Non erano cinque, ma... Raga, ma che cacchio è? Potrei avere leggermente sbagliato qualcosa. What the fuck, man? Però sembra una zappa. A volte mi chiedete spesso, Lollo, perché costruisci così bene? Come fai? Prova e riprova. Sicuro l'ho toppata ancora, eh. Guarda, non voglio spoilerarmi se è corretta. Sembrerebbe di sì. Ah, aha, ora sembra più un piccone. E mi piacciono questi colori. Poccano. È uscita bene la statua, ragazzi. Sono contento. Non è nulla di estremo, ma è anche un modo per ricordarsi della nostra miniera, che tra l'altro è precisamente in un 5x5, anzi no, in un 3x3. Quando ho tirato giù mettere la statua qui sopra, o comunque costruirla simile qui sopra, e fare un ingresso, tipo che entri da qua e vai giù, spaccherebbe, spaccherebbe. Da Custri, io vi ringrazio tantissimo della visione, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Come al solito, se ne volete vedere altri due, io ve li lascio qui. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao belli!